CARLOTTA ASML Ciao a tutti! Come state? Spero stiate benissimo Benvenuti in un nuovo video svuota la spesa Natura Si Sono stata al Natura Si con mia mamma ieri Per me oggi è 25 luglio 2024 Ma non so quando guarderete questo video perché sto cercando di portarmi avanti Non posso mettervi tutti svuota la spesa uno dietro l'altro Quindi direi di iniziare Non sapendo quando esce questo video vi volevo ricordare Restando in tema Natura, eco ecc I miei codici sconto per Sul sito wild carlott.smr Valido sotto il sito In tutti i decoranti naturali, ricaricabili, cruelty free, vegani Non so che altro aggiungere Che adoro, adoriamo io e mio marito E E anche il mio sconto su Evertrop Che è un altro sito Non eco bio Non eco bio ma naturale Come wild del resto E eco bio Per diversi prodotti Evertrop Quindi prodotti in polvere che voi create Aggiungendo l'acqua a casa E questo fa risparmiare un sacco di inquinamento In quanto Il trasporto è più leggero E anche le confezioni sono riutilizzabili Non per forza con 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 prodotti Evertrop Le potete riutilizzare come vi pare E sono A mio parere molto belle Molto semplici Eleganti Lineare Basta Iniziamo Io sono Natura In sottofondo C'è il Crematizzatore Ma un filo ne ho messo Senza impensabile E Sono sulla strada Quindi ci potrebbero essere dei rumori Questo è Iniziamo Molte di queste cose sono Veramente sfiziose E le abbiamo prese per Camilla I nonni Che vizzano questi bimbi Iniziamo Prendo a caso Allora Abbiamo preso queste patatine Mini stick Di ProBios biologico Con olio Extravergine Di oliva Basta Ci sono altre informazioni Piccolino Un pacchetto da 40 grammi Non c'è niente dentro Quindi Suppongo sia molto buono Poi Questi Li abbiamo Ripresi Perché li aveva acquistati Mia mamma Prima che noi arrivassimo qui Per Camilla Cioè Direi che le sono piaciuti E' riduttivo Sono questi Dinosauri Con mais Sono di mais Sono tipo le patatine buffo Per intenderci Come consistenza Quella consistenza la Col ketchup Non molto sani Ma va bene Si cagli Sei in vacanza anche lei Appunto Sono Senza glutine Di mais appunto 50 grammi Sono grandi Così Sono molto grandi Impazzita Ce le sono piaciute Tantissimo E ci sono anche Sono megani appunto Ci sono anche In altri In altri In altri sapori Altri gusti Ecco Di cui uno l'abbiamo preso Questo qui Quindi è quello che lei Già conosce Il ketchup Buonissimo Ci sono al Sale di mare Credo si dica così E al formaggio Gliel'abbiamo preso Al formaggio E l'altro non c'era Quindi questi sono Anch'essi senza glutine E' un altro tipo Di dinosauro Che si chiama Igor L'altro si chiamava Babe E quello al mare Al sale di mare Si chiama Junior Ehm Questi chiaramente Non sono megani Perché sono al formaggio Quindi questi Saranno praticamente Come consistenza E non so Se anche come gusto Le buff Praticamente Queste patatine Ne abbiamo prese due Lei come credo Tutti i bimbi Che ha un amore Spassionato Per le patate Soprattutto Al forno Non quelle fritte Non è assolutamente Abituata a mangiare Questo cibo Men che meno Le patatine fritte In busta Le assaggiate Ma non come Spuntino Ok E' capitato Che le assaggiasse Perché si Perché noi abbiamo questo Questa tipologia Abbiamo fatto questa scelta Niente di male Cioè nel senso Niente di male Niente da obiettare Su chi fa scelte diverse Per i figli Non è affarmi Ma queste qui Le hanno prese i miei genitori Per loro Perché adorano E sono buonissime Ve lo confermo anch'io E le comprano E ricomprano E ricomprano Sono buonissime Concordo pienamente Sono veramente molto buone Sono liquidezie Di Calabria Top E questo marchio Paule volante Buone 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 E non c'è altro Che estratto Di liquidezia biologica Ed è in quadratini Non so se riuscite A vederlo In cubetti Non sono neanche cubetti Sono piccoli cilindri Ottime Ottime E sono anche D'agricoltura italiana Sono 50 grammi Abbiamo preso Due confezioni Di Così si chiamano Le farrette Del marchio Pometeo Io queste Le chiamerei Tagliatelle Non so come le tagliate Le chiamate Fettuccine Boh Io le chiamo tagliatelle Forse sbagliando Di farro di cocco Integrale Macinate in pietra naturale Sono squisite Le abbiamo mangiate già 4-5 giorni fa Semplicemente Con il pomodorino Vi ho fatto un zucchetto Con il pomodorini Datterini Mi pare fossero Direi Squisite Buonissime E ne abbiamo preso due Quindi Mezzo chilo Siamo in Quattro adulti Più Camilla Non c'è molto altro Non abbiamo preso tante cose Poi Abbiamo preso questi spaghetti Del Natura Sono diversi Quindi io li faccio vedere In due Separatamente Insomma Questi sono spaghetti numero 5 Quindi più grandi Grano italiano Impastata con acqua di montagna Adoro questa confezione Confezione ecosostenibile 100% carta Cuoce in 10-12 minuti Ed è grano italiano Questi invece sono gli spaghetti numero 3 Perché mio padre preferisce quelli più piccoli Mi pare di aver capito Anche se non mi torna come cosa E questa cuoce in 8 minuti Stesse identiche caratteristiche Per concludere abbiamo altri due snack Ovviamente per Camilla Qui Questi li abbiamo già assaggiati E li abbiamo ripresi Perché Li ha dorati Sa che c'era anche il frigo Che ha staccato adesso Sono triangoli di mais bio Del marchio La finestra sul cielo Senza glutine Senza lievito Non fritti Sono troppo buone Troppo buone Mi fa ridere perché Non c'è niente dentro Ci sono Mais 89% Oli vegetali Girasole Mais Sale marino E credo Siano vegani Quindi A casa mia sono vegani Non c'è scritto Non c'è scritto ma Assolutamente si Sono anche vegani Non siamo vegani Ma lo dico come informazione Senza glutine Per i celiaci va bene E per i vegani anche Buonissimi Sono 100 grammi Questi in realtà La metà Li abbiamo mangiati noi A casa Insieme a Camilla Perché erano troppo buoni Ve lo giuro E questi Li ho presi Ma non so Se li piaceranno sicuramente Mi ispiravano troppissimo Sono triangoli di riso e piselli Spettacolari Anche questi Anche questi senza glutine E anche questi Mi viene da dire vegani Riso 70% Piselli verdi Oli vegetali Sale Assolutamente si Sono assolutamente vegani E sono curiosissima Di assaggiarli Veramente tanto Mi sta venendo in mente Siccome mia mamma ci va spesso Al Natura si Quasi quasi Se do un'occhiata in giro Vedo se c'è qualcosa Che posso mostrarvi ancora Che non ho acquistato Ieri io con lei Però lì dentro C'è la riserva segreta Vado a dare una spirciata Sì Ho trovato altre due cose Che sono Questi Semetellino di zucca Di girasole Di chieba Di goji Macinati a freddo Fonte di fibre Di proteine E ricchi di Omega 3 Da aggiungere Il tuo piatto Tipo insalata Yogurt Smoothie E cereali Ma questi Mi sa che li voglio anch'io Non li abbiamo comprati ieri Quindi Non sapevo che li avesse presi Mi sa tanto che Li proverò Li assaggerò E questo E questo Che è orzo tostato solubile 100% orzo italiano naturalmente Senza caffeina E sulle dolci note di questo tappo Coperchio Vi dico Ci vediamo al prossimo video E vi lascio a terminare Quindi il video così Ciao Ciao Ciao